Ciao a tutti, mister Graucio Romano è ancora a Canna e oggi faccio un pochino il video Cosa Bo Reporter, è il giorno 5, 6, 7, forse 6, vedo se riesco a montarlo all'inizio del video se no vi metto sotto un filmato veramente forte, veramente duro, sconvolgente, li vedrete sono tanti, affollano il palè con dei cartelli e chiedono l'elemosina, ma è un'elemosina tutta cannenze, perché? Perché chiedono degli inviti sostanzialmente, cioè chiedono dei biglietti per partecipare alle proiezioni a Gran Teatro Lumière, quelle della sera con il red carpet, gli attori vivi eccetera eccetera, siccome questi vengono appunto, vengono delle persone invitate direttamente dalle produzioni o dall'organizzazione oppure chi è accreditato fa le file alla mattina presto per prendere un invito, altrimenti ti metti a barboneggiare fuori dal palè per chiedere che qualcuno ti dia un invito, che poi viene da chiedere ma se ho dovuto patire per avere un invito, perché lo do via? Pagano? Boh, qualcuno forse pagherà pure, c'è chi proponeva degli scambi, ti do un biglietto di questo per un biglietto di quello, è lì la stessa domanda, ma se ho appenato per avere il biglietto del film X, perché dovrei dartelo per il film Y? Oppure danno abbracci, baci e insomma profferte di tipo più o meno veratamente sessuale, perché? Per poter spoggiare i loro vestiti da sera come dicevamo ieri con i ragazzetti americani in gita a Canna. A proposito degli americani, un altro film americano che è passato in concorso ieri è Fox Catcher di Bennett Miller, che abbiamo tutti apprezzato con L'arte di vincere e Truman Capote, in questo caso racconta la storia vera di due fratelli lottatori liberi, campioni olimpici, che hanno a che fare con un magnate dell'industria che vuole fargli, insomma, ce li ha a cuore, un mecenate che vuole dargli il miglior allenamento possibile per fargli vincere le Olimpiadi dell'88. Il loro rapporto però chiaramente poi a un certo punto si sporca, diventa più pesante. Se l'occhio e il tono, lo stile di Bennett Miller sono sempre quelli vincenti, qui la vera mancanza la fa una storia forte, un punto di vista forte, una voce narrativa che potrebbe essere quella di Truman Capote appunto o del personaggio di Brad Pitt nel film precedente. Qui la storia sembra quasi sospesa, i concetti forti che sono la fine del sogno americano, un certo tipo di valori americani, passati attraverso lo sport come se fosse una Repubblica Sovietica qualsiasi, restano molto sulla carta. La mancanza di un filo conduttore o di un personaggio carismatico forte impedisce a Miller di andare a fondo, resta a mio avviso molto sulla superficie e anche se la storia dovrebbe essere esemplare, anche perché è famosissima in America, il film è tutt'altro che impeccabile, è tutt'altro che infallibile. Invece, cominciano ad arrivare i film giapponesi e orientali, abbiamo visto un film giapponese e un film cinese, cioè Nomi Cavase con Stillwater e Coming Home di Jiang Mo. Stillwater è un bel film che racconta la natura, la morte nella natura, racconta il fatto di accettare la morte all'interno di una presenza spirituale della natura che è tipico della cultura giapponese e lo fa con uno sguardo molto intenso, molto affascinante, con un modo di vivere il mondo che la circonda e che circonda i personaggi estremamente tenero, anche ingenuo ma vero e forte, con un paio narrativo molto complesso, molto, diciamo, faticoso in un certo senso. Giai Mo invece in Coming Home mette, come dire, a distanza, ravvicinata il suo vecchio cinema, cioè quello del dramma realista e in un certo senso politico che attraverso le miserie umane raccontava le miserie nazionali e invece il suo nuovo cinema con un po' più, come dire, calmo, un po' più pacificato con il regime. Lo fa raccontando la storia di una donna che dopo la fine della rivoluzione culturale in Cina e dopo tutta una serie di drammi personali che riguardano il marito che era un dissidente politico comincia a perdere la memoria, il marito torna dopo anni di esilio e deve cercare di farle ricordare chi era e soprattutto il suo passato. Il film è piccolo a basso budget anche rispetto alle grandi produzioni con cui ci ha abituato già negli ultimi anni. È un po' rozzo, i mezzi sono proprio quelli anche un po' pesanti del cinema popolare cinese, eppure ha una delicatezza di tocco in certi momenti, grazie a Gong Li soprattutto per la protagonista, che rendono il film tutto sommato efficace, con dei limiti, limitato soprattutto perché una sceneggiatura che poteva dare tante prospettive resta ferma sull'unica idea, però il gioco degli attori e il gioco delle emozioni funziona bene. C'è anche arrivato il momento dei Dardenne e di Marion Cotillard, i cinefili lo attendevano molto, De Jure, a Nui il film racconta di questa donna che nei due giorni e una notte del weekend deve convincere i suoi colleghi di lavoro a votare per non farla licenziare. Il ricatto che l'azienda ha messo è che o licenziano lei oppure non si beccano il bonus che i soldi che dovevano dare a lei garantirebbero. Diciamo che è un film con un'idea un po' alla Ken Lodge, cioè quella di trattare le tematiche contemporanee del lavoro e quindi come il lavoro renda evidente una guerra fra poveri, e lo fa però con uno stile dei Dardenne. Qualcuno dirà che i Dardenne fanno sempre un po' lo stesso film, lo stesso cinema, boh forse è vero, lo fanno sicuramente tutti ormai il cinema di Dardenne, macchina a spalla, lunghe inquadrature, però i Dardenne lo fanno meglio, lo fanno meglio perché hanno un ritmo, una tensione, una precisione, una secchezza e una grande forza di idee in quello che devono dire che li rende vincenti, hanno una padronanza della macchina da presa ma soprattutto della scelta dell'inquadratura, ogni scena è risolta come una sola inquadratura, non ne servono altre, se hai dei bravi attori e se sei dirigente ti basta un'inquadratura e loro sanno scegliere sempre quella migliore per fare un bel film, questo è un ottimo film e un film che potrebbe portare anche Marion Cotillard ai premi. Che succede domani? Beh arriva Ryan Gosling, il suo nuovo film, il suo primo film da regista, perciò aspettatemi a domani.